Ah, santo uccello, quanta polvere. Già, è tutta colpa di Alex che non fa mai niente la mattina e la sera. Alex, che c'è? La cucina è piena di polvere, cioè mi spieghi come facciamo andare con la spalcizia? No, grazie, non la voglio la liquidizia. No, è sempre il solito. Spalcizia, ha detto, spalcizia. Vabbè, se ti riporto un tuo fastidio, almeno pulisci tu. Certo, però me lo faccio metto io. Io la faccio oggi pomeriggio. Io mi mangio una bella bistecca. Non c'è niente. Alex, ma l'hai fatta la spesa? Eh no, perché devo fare sempre tutto io. E non mi piace fare la spesa. Eh, ma niente, te la fai. Te la fai e basta, io non ti voglio sentire. D'accordo, vado a fare la spesa. D'accordo? D'accordo? Grazie.